Nel settembre del 1914 la Germania attaccò la Francia, che era sostenuta dall'Inghilterra. La Germania invase il Belgio, fino a quel momento neutrale. L'avanzata venne arrestata sul suolo francese lungo le sponde del fiume Marna, ad una quarantina di chilometri da Parigi, dove si scatenò una furiosa battaglia, che però non diede la sperata rapida vittoria ai tedeschi. Solo nell'ottobre del 1914 i francesi furono in grado di rispondere all'avanzata tedesca, spostando il fronte qualche chilometro lontano dal fiume Marna, lungo i fiumi Esn e Somme, e, più a nord, attorno alla città belga di Ypres. Durante il 1915 la guerra subì uno stallo clamoroso. Gli eserciti si erano oramai assestati in trincee fortificate, perdendo la foga e lo slancio iniziale. Le perdite umane erano pressoché incalcolabili e centinaia di migliaia di soldati furono sacrificati nella vana ricerca dell'attacco risolutivo. Nel febbraio del 1916 i tedeschi ripresero un'iniziativa, sferrando un attacco violentissimo in forze contro le fortificazioni francesi presso Verdun, una cittadina posta a sud del confine franco-tedesco. La battaglia, durata quattro mesi e condotta dai tedeschi con uno spiegamento senza precedenti di artiglieria pesante, risultò troppo costosa anche per gli attaccanti. I francesi riuscirono a resistere fino a luglio 1916, riuscendo, grazie agli inglesi, a organizzare una controffensiva sempre sul fiume Somme, più a nord. Il tutto si risolse in una spaventosa carneficina. Più di 600.000 uomini morirono a Verdun e quasi un milione caddero nella nuova battaglia sulla Somme. Fu a questo punto che cominciarono a verificarsi grandi fenomeni di ammutinamento tra le truppe, sia tedesche che francesi. Nel 1917 a migliaia tra i soldati si rifiutarono di combattere. Solo con dure repressioni e molte concessioni si evitò la ribellione negli eserciti. Nel 1918 tutti gli eserciti oramai erano giunti, stremati al quarto anno di guerra. L'esercito tedesco tentò la sua ultima e disperata offensiva. A fine marzo riuscì a sfondare a nord, presso Arras e San Quentin, e avanzò in territorio francese per una cinquantina di chilometri, ripresentandosi alle porte di Parigi. Anche questa volta Parigi fu evacuata e centinaia di migliaia di civili furono costretti a lasciare le loro case. Ancora una volta le forze anglo-francesi però resistettero e passarono al contrattacco, ottenendo la prima grande vittoria presso Amiens, vicino al fiume Somme. A questo punto la Germania aveva finito ogni capacità di resistenza e, scossa da una violenta crisi all'interno della Germania, si vide costretta a dichiararsi sconfitta e a chiedere la pace.